È la città di Cosenza ad ospitare il primo meeting della Polizia Locale del Sud Italia. Sono oltre 200 gli iscritti che partecipano al congresso, durante il quale sono previsti incontri formativi su diversi temi. Di sicurezza stradale si è discusso durante la prima sessione di lavori. I dati Istat infatti rilevano che ogni anno sulle strade italiane perdono la vita oltre 5.000 persone e 300.000 sono i feriti, ovvero più di 15 morti e 800 feriti al giorno. La stragrande maggioranza degli incidenti, secondo le statistiche, è riconducibile direttamente all'imprudenza del guidatore. Posso dire che oggi l'alcol ha un aspetto piuttosto importante, così come anche l'assunzione di sostanze stupefacenti, e un dato allarmante che devo segnalare è quello dell'uso del telefonino attraverso la messaggeria, che porta ad una distrazione troppo importante. I dati, gli incidenti stradali complessivamente in Italia sono in diminuzione, purtroppo sono in crescita. Gli incidenti stradali fatti con i mezzi agricoli sono in crescita gli incidenti stradali provocati da coloro che fanno uso e abuso di alcol e di sostanze stupefacenti. Al discorso della sicurezza è inevitabilmente legato quello dell'educazione. Particolare attenzione, infatti, è stata dedicata all'importanza di educare le nuove generazioni al rispetto del codice della strada. In platea, per la giornata inaugurale, alunni delle scuole cittadine che hanno sollecitato i relatori con domande e curiosità. Saremo impegnatissimi da qui a poco nelle scuole per avere dei collochi con i ragazzi. Non andiamo a fare lezioni, andiamo a fare conversazione con questi ragazzi per cercare il loro aiuto che è fondamentale nella vita quotidiana. I bambini sono molto più attenti degli adulti al rispetto delle norme e noi compitiamo in loro come dei veri e propri collaboratori.